Mi chiamo Nicole Micocci, vengo dall'Istituto Liceo Croce all'Eramo di Via Coglianiene. Sono qui oggi con la mia classe per partecipare al progetto di alternanza scuola-lavoro con il binario F che consiste principalmente nel lavorare con ragazzi immigranti principalmente che sono comunque, diciamo, nostri coetanei e aiutarli dal punto di vista digitale principalmente. Oggi, prima volta che li abbiamo visti, abbiamo cercato principalmente di conoscerli per capire più o meno le loro difficoltà, i loro problemi. Abbiamo riscontrato che molti di loro hanno problemi dal punto di vista di lavorare sui programmi office poiché non utilizzano frequentemente il computer, però sono informati dal punto di vista social.